C'è qua qualche problemino, non è stata benissimo e oggi lo valuteremo. Colarov e di Rossi in vicino non sarà no convocati per domani. Sono in miglioramento e Dominica do Freiberto Nare in gruppo. Spero di recuperare per il CSKA. Così il tecnico della Roma e Eusebio di Francesco alla vigilia della gara con la spalla all'Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta legata gli impegni delle nazionali. Domani avremo una partita molto complicate. La spalla ha ottenuto pocci risultati nell'ultimo periodo ma per mi ha affatto otta in prestazioni spiega l'allenatore gialloroso a Trigorie. Andare a sottovalutare una squadra e il grande era che spesso si fa in questo ambiente e noi invece dobbiamo affrontare questa partita con grandissima applicazione e tenzion. La spalla appresa con le mole e una partita molto delicata. E il fatto che abbiamo superato il momento non lascia e tempo che trova per sé in campionato noi dobbiamo e vi che la continuità necessaria ottenere risultati importanti. Abbiamo intrapresa la strada giusta e ora dobbiamo continuare non effinitaci probabiliformazioni di Roma spal Roma 4231 1 Olsen 24 Florenzi 44 Manolas 20 Fazio 3 Lu Pellegrini 42 N Sonsi 4 Cristante 17 Anda 7 Lowe Pellegrini 92 El Shara V 9 Dzeco 83 Mirante 63 Fuzato 5 Juan Jesus 15 Macano 18 Santon 19 Coric 22 Saniolo 27 Pastore 54 Ken Giano 34 Cluevert Al D'Alta Giano 35 Al Da Strada di Francesco Al, Dai Francesco, Scualificati, Nessono, Defidati, Nessono, Indisponibili, Castor, Colaroff, De Rossi, Perotti, Schick. Spall, 3, 5, 2, 1, Gummis, 4, Cionec, 23, Vicari, 5, Simic, 29, Lazari, 6, Missi Roli, 28, Schia Tarella, 8, Valuti, 33, Costa, 43, Paloschi, 37, Petagna, 22, Tiam, 32, Milinkovic, Savic, 14, Bonifazi, 93, Fers, 24, Dickmann, 25, Everton, Luiz, 97, Vitale, 16, Valdi, Fiori, 10, Flocari, 11, Montini, 7, Antenucci, Al, Sempici, Iufidati, Nessono, Squalificati, Filipe Indisponibili, Jururu, Kurtig e Viviani, Abitro, Herato da Nickelino, Quote SNI, 1,335,258, 75. Sous-titrage Société Radio-Canada